Sigla Sì 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 Ok Ci hanno offerto un potenziamento di una granata Disintegrato Ok Vediamo un attimo dove può portarci Non c'è neanche sentito il signorino Allora Tessa tattica Ok perfetto Non siamo I maledetti ci nascondono nel canyon Aia Perfetto Fortuna che volano via proprio come gli soldatini Non siamo Io qui direi di correre perché è meglio Ok abbiamo limitato i danni al minimo Penso prendiamo il medikit Perfetto scioglietevi Iniziano ad attaccare 3 in un colpo Oddio cos'è là C'è un lancia granatiere Qualcuno del genere Te lo fa male Il medikit nascosto Lancia fiamme livello 2 Perfetto Detonati alla grande Questo Si nascondeva dietro Nessun problema Tu il lancia fiamme di livello 1 Disintegro Signori che musica bellissima Io penso anche questo gioco avesse delle musiche orrende Perfetto Aiaiaia La bombata li ha disintegrati Prendiamo il potenziamento del fucile Nel numero 3 Attraversiamo questo bellissimo ponte Proprio canyon duro Proprio canyon duro questo Ok una strada di invincibilità Sede che dobbiamo sopravvivere A un'orda Abbiamo ritenuto il lanciapatate Signori Il lanciagranate Io qui direi proprio di correre Un'altro chi mi cura Infatti qui c'è stato proprio Un agguato totale Prendiamo la granata a pesce di livello 3 Oddio attenzione qua Bruttissima aria Vedo anche un leggero caro di frame rate Ma non dovuto a me Ma a causa del gioco Una vita Prendiamo la vita Molto prezioso Oddio c'era Un lanciapatate di livello 2 Fininiamo questi scendotini di fanteria Tu non mi fai paura Per finire questo Ok perfetto La jiffa è stata schiacciata Il suono Noi continuiamo l'avanzata sul canyon E' bellissimo Guardate Questo gioco dovrebbero rimasterizzarlo in HD Per tipo computer o PS4 Ah è vero che la granata di livello 3 è frammentazione Oh no No Nessun problema Mi ha sciolti Ah 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 Quanti sono carrile da miniera Che non capisco O Ma si possono distruggere domande Andiamo No Oh, aspettate, io non l'ho mai visto questo Ma invece sì È una mitraglietta veloce, no Lo abbiamo risolto Ecco, qualche interessante a me era questo di livello 3 Oh cielo Oh cielo, questo sì che fa danni Un modo si fa danni Oh ma ma che danni Ah, adesso io lo uso qui Serviva proprio per farsi largo tra la casetta Eh, adesso qui c'è la jeppina da sistemare Vieni, 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 vieni Non mi preoccupare Ops Questo è proprio il pazucca di... D'ordine Oddio il framerate mi sta abbandonando Prendiamo questo, liberiamo un po' l'aria magari Facciamo qualche poligono che da un po' dar fastidio Così il proprio litro deve calcolare meno ma Non è proprio il gioco che qui Mi sta facendo gli scherzoni Eh ma dopo quando vuoi programmare su una console Perfetto, missione completata Non siamo morti neanche una volta Grazie alle cure siamo riusciti a sopravvivere Le medaglie esatto, per dire se non le vinco tutte mi arrabbio Perfetto, io direi di salvare E anche qui si conclude l'episodio numero 5 di Army Man Sì, sovrascrivi Vediamo che cosa sarà l'episodio 6 Non ho un'idea Vedremo al prossimo Ciao da Luma Se il video ti è piaciuto iscriviti al canale Non aspettare